Ne volevo parlare da tempo di questo capolavoro, anche se non proprio fresco di stampa, comunque reperibile negli store online. A scriverlo è Scarlett Thomas, scrittrice inglese di talento che con questo thriller è riuscita a scrivere uno dei romanzi più eccitanti degli ultimi anni. Suspense, il carattere visionario e surreale della trama che stravolge puntualmente i canoni della normalità nei lettori, rendono straordinaria l'intera struttura narrativa dell'opera. Tutto inizio quando degli strani accadimenti avvengono nella vita di Ariel Manto, studentessa della British University. Prima scompare il suo professore, poi l'università si disintegra davanti ai suoi occhi e infine in un negozio di libri usati si imbatte in una copia di un libro prezioso e maledetto che stravolgerà la sua esistenza per sempre. Il resto è ovviamente tutto da scoprire.